Al via a febbraio 2020 la grande riqualificazione di Piazza della Motta, uno dei luoghi simbolici e storici di Pordenone. Intoppi burocratici, ora superati, avevano frenato l'iter. Sindaco, ci siamo al via ai lavori in Piazza della Motta? È stato un iter tribolato pieno di ostacoli, legato anche purtroppo alle norme italiane in materia di concordato, di rischi di fallimento. Finalmente la situazione si è sbloccata e si è sbloccata grazie alla sensibilità della ditta polese che non smetterò mai di ringraziare. Avrebbe avuto la possibilità di impugnare l'esclusione dall'appalto, non l'ha fatto per l'amore di Pordenone. Questo è un gesto davvero importante che va riconosciuto da tutti. Questo ci permetterà di partire con la riqualificazione di Piazza della Motta e dell'ex biblioteca a partire già da febbraio 2020. Elementi centrali del restyling saranno il porfido, l'acqua e gli alberi con l'obiettivo di creare un salotto urbano aperto ed elegante che diventerà fulcro della vita culturale cittadina. Gli interventi riguarderanno anche i dintorni di Piazza della Motta. Partiranno anche i lavori di riqualificazione di Via Roma e Piazzetta Pescheria che diventeranno luoghi bellissimi consentendo al centro della città, al cuore storico della città di essere restituito la sua bellezza visto che oggi è un parcheggio tra l'altro piuttosto messo male. Abbiamo recuperato i finanziamenti e i fondi per farlo. Questo primo lotto significa anche la partenza di tutti gli altri lavori che investeranno una parte del centro città, penso per esempio a Via Le Marconi o a Via Beato Dorico, ma riguarderà anche i quartieri. Penso all'abitato di Roraia e penso a interventi di asfaltatura attesi da tanto tempo sia a Valenoncello che a Villanova. L'investimento su Piazza della Motta e zona limitrofe è di ben 3,2 milioni di euro, compreso il rifacimento delle infrastrutture come fognature, nuovi lampioni, predisposizione per la fibra ottica. Per consentire i lavori le bancarelle del mercato cittadino traslocheranno in Piazza Risorgimento, Via Cossetti ed Intorni, creando un tutt'uno con gli ambulanti di Piazza 20 Settembre.